Del sistema museale di Ateneo fanno parte 14 musei e collezioni a contenuto storico-scientifico e il Museo Virtuale Mode, Museo Officina dell'Educazione, dedicato alla didattica museale. Dall'infanzia fino all'università, migliaia di bambini e ragazzi possono fruire di oltre 80 percorsi che raccontano le scienze naturali, l'anatomia, la fisica, la storia della scienza, la geografia, la storia dell'arte e offrono la possibilità di vedere dal vivo e toccare con mano reperti conservati fin dal Cinquecento dagli scienziati e ricercatori dell'Università di Bologna. Dato il periodo di emergenza sanitaria, il Sistema Museale di Ateneo ha attivato un programma di didattica online in diretta, una gita al museo 2.0 on-air. In questo caso gli operatori dei musei si collegano con le classi raccontando temi e contenuti del museo in un confronto attivo con gli insegnanti e gli studenti. Esiste inoltre la possibilità di collegarsi in qualsiasi momento al sito web di SMA e di fruire gratuitamente dei percorsi didattici virtuali una gita al museo 2.0, pensati come completamento delle lezioni svolte dagli insegnanti in classe o come integrazione dell'offerta didattica in presenza presso le sedi museali. Tra gli obiettivi dell'offerta educativa del Sistema Museale di Ateneo vi è quello di offrire un approfondimento dei temi indicati nei programmi ministeriali e di contribuire allo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza e trasversali, come ad esempio favorire il lavoro di gruppo, stimolare capacità logiche, di osservazione, artistiche e manuali. Inoltre, in linea con le sfide mondiali per il miglioramento globale del nostro pianeta, i percorsi didattici di SMA sono anche pensati per educare i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile elencati nell'Agenda 2030. Per consultare il catalogo dell'offerta didattica e per prenotare un percorso, è sufficiente collegarsi all'area del sito SMA dedicata alle scuole, scegliere il percorso e prendere contatti con i servizi educativi. Il sito viene periodicamente aggiornato con le iniziative speciali rivolte alle scuole e a tutta la cittadinanza che potete scoprire visitando la sezione Agenda del sito SMA. Grazie. Guardate. Guardate. Grazie a tutti